molto 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 e in Puglia, in Sicilia lui è un partoriero che ha iniziato a mano ed è sorvoglioso di questo premio grazie a tutti grazie a tutti la sua presenza suggerisce una giornata storica per Sant'Ambra abbiamo creduto in questo riscatto un territorio che negli anni ha subito l'unta di moltissime dispariche oggi presento l'istituto scolastico moderno sicuro, all'avanguardia un territorio che subisce ancora l'unta di rovi anche tossici per mano di territori e civili potremmeno saluto il Presidente Luca che ogni tanto ci ha avuto la sua presenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per qualsiasi buona riborezione chi è un quartiere sincero di buona vita a voi bambini e babini voi siete i gloriani della Scuola di加ia e Amici donne e uomini in fioritura protagonisti del futuro di questo paese